La democrazia è un sistema politico che ha sempre delle sue dinamiche interne e quindi anche se un biennio non è molto naturalmente per registrare trasformazioni significative è tuttavia fare il punto a una sua plausibilità e credo che sia una occasione di incontro importante soprattutto per gli studiosi che si occupano di questi temi. C'è stato un dibattito sulla migliore forma di governo che ha percorso la storia, poi da un certo numero di anni si sostiene che non si può più affrontare il tema della migliore forma di governo e quindi questo comporta una qualche difficoltà a dare delle risposte certe sotto questo profilo. Il tema vero è quello del male minore, forse parlando del potere, perché il potere difficilmente è buono, l'autorità è buona ma il potere difficilmente è buono e quindi si tratta di vedere in termini di costi e benefici quali sono le forme politiche che nel corso della storia, perché non esistono assoluti, hanno dato le migliori risposte a questo tipo di quesito. I giovani sono l'avvenire, quindi per definizione se facciamo il punto su qualcosa lo facciamo essenzialmente per i giovani, perché la nostra è un'esperienza che si è sviluppata a lungo i decenni, a loro dobbiamo dare il contributo della nostra riflessione, dei nostri approfondimenti e dobbiamo rispondere alle loro domande, soprattutto il compito dei giovani è fare domande, il compito di quelli meno giovani è cercare di dare delle risposte, ma in un confronto dinamico tra le diverse posizioni politiche.